Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla nascita di un movimento al femminile per la rinascita di Gela. L'occupazione e salute sono gli obiettivi da raggiungere. I nostri figli, hanno detto le responsabili, devono costruire il loro futuro in città. Vediamo. Libere professioniste, casalinghe, commercianti, ma soprattutto mamme. Mamme di figli che in città vogliono rimanere per costruire il loro futuro. Sono le componenti del movimento rosa per la rinascita di Gela, presentato ufficialmente ieri sera. Assieme alle istituzioni, hanno detto le responsabili, vogliamo contribuire attivamente alla ripresa occupazionale. La nostra cosa è di dire salute e lavoro. E come si può ottenere salute e lavoro? Lottando, lottando perché verso le istituzioni o magari facendo un po' di pressione alle nostre politici o anche costruirci noi stessi il lavoro che ci offre la nostra città. Il movimento rosa per la rinascita di Gela era già steso in piazza lo scorso 26 gennaio nell'ambito della mobilitazione per il lavoro. Noi vediamo che le istituzioni si stanno muovendo e noi ecco che appunto noi stiamo mettendo su questo movimento, visto che siamo donne, stiamo formando una rete per essere vicino a questa istituzione, dato che la salute e il lavoro camminano di pari passo. Il vostro obiettivo principale è quello di non far emigrare da Gela i vostri figli? Sì, principalmente i nostri giovani perché noi amiamo tanto la nostra Gela, la nostra città e i nostri comprensori. Le donne sono quelle che danno la vita e noi attraverso la vita vorremmo fare rinascere Gela con i nostri ragazzi, con le persone che si stanno associando perché parlando con le donne, le donne si stanno avvicinando a noi. Ma non solo casalinghe, ma anche commercianti, abbiamo degli avvocati assieme a noi, delle consulenti, insomma, abbastanza persone, libere professioniste che si stanno associando a questo modo di fare nostro. È molto semplice, ci stiamo provando perché giustamente non abbiamo esperienza, però cerchiamo di farcela l'esperienza, cercando di bussare, di farci spazio con i gomiti. Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale. Il titolo del convegno promosso dalla Diocesi di Piazza Armerina tramite l'Osservatorio Pastorale di Gela, fortemente voluto dal Vescovo Rosario Gisana, che si terrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'Osservatorio Pastorale Cittadino è composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi ed è presieduto dal vicario foraneo Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del Vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale. Pagina della cronaca giudiziaria, attività svolte a Gela da polizie e carabinieri sul fronte del contrasto allo spaccio di droga. Vediamo. Lo hanno sorpreso a spacciare in una traversa del centro storico di Gela. Bloccato, è stato arrestato e recluso presso l'Istituto Penitenziario minorile di Caltanissetta a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sono in corso attivissime indagini per identificare eventuali complici nell'attività illecita. Le manette sono scattate ai polsi di un 17enne. È stata la polizia, diretta da Francesco Marino, con il coordinamento della responsabile del settore, Laura Romano, ad identificarlo nell'ambito di un'attività di osservazione a distanza. Addosso, il ragazzo aveva un quantitativo già tagliato e confezionato per la vendita. A seguito di una tempestiva perquisizione effettuata presso il domicilio del ragazzo, sono stati rinvenuti diversi panetti di sostanza stupefacente, confezionati e celati all'interno del vano allocazione dell'autoclave. Sono stati sequestrati 700 grammi di hashish. Il 17enne è un volto già conosciuto per vari precedenti specifici. I carabinieri, diretti dal Maggiore Valero Marra, hanno segnalato alla Prevettura di Caltanissetta a 12 giovani, di cui due minorenni, per la maggior parte incensurati e studenti. Durante il controllo del territorio nelle zone particolarmente sensibili della città e che più sono esposte al fenomeno dello spaccio di droga, i militari della locale sezione Radiomobile, nel corso di un servizio mirato a prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto ad un controllo a tappeto di tutte quelle aree che sono frequentate in maniera abitudinaria da soggetti consumatori di droghe. All'esito dei controlli, avvenuti soprattutto nel centro abitato e vicino agli istituti scolastici, sono stati sequestrati circa 20 grammi tra marijuana e hashish, rinvenuti sia addosso ai soggetti fermati sia all'interno dell'abitacolo dell'auto su cui sono stati fermati. Uno di questi, bloccato proprio a ridosso di un istituto scolastico, in un orario prossimo all'uscita degli studenti, aveva con sé anche una tirapugni con lama di circa 8 centimetri. E' stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere. La quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura all'unanimità ha indicato Fernando Asaro alla guida della Procura di Gela. La votazione dovrà passare al vaglio del voto del plenum del CSM. Asaro attualmente ricopre l'incarico di presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati a Caltanissetta ed è sostituto procuratore generale alla Corte d'Appello del capoluogo Nisseno. Asaro ha seguito parecchi processi contro le cosche di Gela. Prenderebbe il posto del procuratore Lucia Lotti, che alla fine del mese ricoprirà l'incarico di procuratore aggiunto a Roma. Continua la campagna informativa del Movimento 5 Stelle per il referendum di domenica 17 aprile prossimo. Domani alle 18 nella sala del Tropico Medda Gela si terrà un convegno dal titolo Giù le mani dal nostro mare. Si parlerà delle ragioni del referendum approfondendo gli aspetti legali del quesito e le conseguenze scientifiche della scelta interverranno tra gli altri Domenico Macaluso, ricercatore del CNR, ed Emilio Giudice, direttore della riserva naturale del Biviere di Gela. Prevista la presenza anche di Enzo Maiorca, il Movimento 5 Stelle sottolinea di essere l'unica realtà politica Gela che sta informando in maniera sistematica e strutturata i cittadini sulla tematica referendaria. Questa cosa ci lascia estremamente perplessi perché si legge in una nota informare i cittadini è il più alto dovere che i rappresentanti politici dovrebbero compiere per garantire il responsabile esercizio di un diritto fondamentale. Da oggi il plesso della scuola dell'infanzia di Via Palorsi a Gela porta il nome di Rita Levi Montalcini premio Nobel per la medicina nel 1986. È stata la prima donna ad essere ammessa alla Pontificia Accademia delle Scienze. Nel 2001 è stata nominata senatrice a vita per aver illustrato la patria con altissimi meriti nel campo scientifico e sociale. Ci ha lasciato il 30 dicembre del 2012. Oggi alla cerimonia di intitolazione era presente la nipote Piera Levi Montalcini, presidente della fondazione dedicata proprio alla zia. Per me ha un enorme significato il fatto che tutta l'Italia ricordi così con affetto zia Rita e il mio lavoro in questo momento è quello di cercare di collegare tutte le città e tutte le scuole che portano il suo nome in un unico gruppo, in un'unica rete in modo che questa memoria che gli italiani hanno di lei venga poi trasmessa ai figli e ai nipoti. Il dirigente scolastico Clizia Nobile. Il grande valore che questa scuola vuole dare al Rita Levi Montalcini, per cui la scelta nella propria intitolazione, è legato al fatto, all'importanza della lotta che Rita Levi Montalcini ha fatto per aiutare i più bisognosi, per aiutare chi non aveva istruzione. E siccome lei pensava che l'istruzione era la salvaguardia delle persone, in quanto la povertà, l'indigenza si può combattere, diceva Rita Montalcini, non solo con i soldi. Tra i presenti il procuratore capo della Repubblica, Lucia Lotti. Questa è una realtà che vale, come ebbe modo di dirmi proprio Rita Levi Montalcini quando ho avuto la fortuna di incontrarla in un'occasione. Mi disse che venire a Gela era un'ottima scelta e lei mi dimostrò di aver capito perfettamente la complessità, la difficoltà, ma anche la straordinaria opportunità che aveva questo luogo. L'assessore comunale a ristruzione, Licia Abela. Ancora una volta c'è l'attenzione della città nei confronti delle persone che hanno simboleggiato in maniera forte, hanno dato un'identità forte a quella che è l'identità appunto italiana. E quindi con molto piacere abbiamo accolto l'invito della dirigente ad essere presenti perché si possa crescere sin da piccoli con degli esempi valorosi e grandi come quello appunto di Rita Levi Montalcini. La ricerca che cura presente e futuro è il tema che sarà dibattuto sabato 16 aprile prossimo alle 10 e un quarto presso la Sala Congressi dell'Hotel Villa Peretti di Gela nell'ambito dei festeggiamenti del 25esimo compleanno della delegazione locale AIRC. Relazioneranno Riccardo Vignieri, presidente del Comitato Sicilia AIRC, e Vincenzo Bronte, ricercatore. Condurrà i lavori il giornalista Franco Infurna, ne dà notizia la delegata AIRC di Gela, Graziella Condello. Giochi matematici 2016 è una competizione di che livello e quanti studenti stanno partecipando? Allora la competizione è a livello di scuola elementare, esattamente coinvolge le quinte elementari, delle classi quarte e quinte elementari, di cui abbiamo i plessi di Butera e anche quelli di Licata. Siamo alla nona edizione esattamente. Quanti bambini stanno partecipando? Abbiamo circa 300 bambini. E il livello? Il livello è abbastanza buono. La difficoltà? La difficoltà abbiamo sui testi di quinta, abbiamo inserito due quesiti di scuola media, invece su quelli di quarta abbiamo messo due quesiti di quinta, in modo da fare differenza. Qual è l'importanza della matematica e lo sviluppo delle competenze in matematica a quest'età? Noi del Google Developer Group e del Corso Giogela battiamo molto sul pensiero computazionale, ovvero su quella capacità di saper dividere i problemi come se fosse un algoritmo. Gli algoritmi sono essenziali sia per risolvere i problemi che siano essi matematici o informatici e questo poi si riflette nella vita. E' proprio questo che poi si parla di coding, quindi fare del codice informatico e si impara appunto il pensiero computazionale, che sia esso quindi matematica o coding, il risultato è uguale e per questo siamo qua a supportare questa tipologia di eventi. Per comprendere bene questi concetti bisogna per forza andare bene in matematica? No, non è detto, perché matematica e logica sono due cose sì collegate, ma non per forza propedeutiche l'uno con l'altro. Quindi è possibile che anche un bambino che abbia dei voti altissimi nelle materie umanistiche possa invece rivelare un talento nell'informatica? Esatto, tra l'altro i bambini di oggi sono i cosiddetti nativi digitali, cioè sono già nati con delle logiche intrinseche delle tecnologie, cosa che noi più grandetti non abbiamo. Resita al pianistico delle gelese Alberto Ferro al fine di sostenere il progetto Music Lab per la scuola. Appuntamento previsto per domenica 17 aprile prossima alle 19.30 al Teatro Comunale Eschilo su iniziativa dell'Associazione Perfetta Letizia presieduta da Giuseppe Failla. Il costo del biglietto è di 10 euro, il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20. Per informazioni 0933 911 892. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si svolgerà a Caltanissette prossimi 6, 7, 8 maggio il quarto corso base per diventare clown di Corsia. Il progetto formativo è organizzato dall'Associazione VIP Viviamo in Positivo, federata con VIP Italia Onlus. Per informazioni bisognerà contattare i clown Smidollata e Sordella ai numeri 328 88 29948 oppure 328 9560 273. C'è anche una pagina Facebook e un sito internet all'indirizzo www.vipcaltanissetta.it. Adesso apriamo la pagina dello sport, si avvicina il grande giorno domenica al Vincenzo Presti, il Gela, si gioca la Serie D. Bisognerà battere il Cus Palermo per festeggiare ai nostri microfoni il centrocampista Giuliano Alma. Giuliano Alma, manca pochissimo alla Serie D, lo abbiamo ripetuto in tante altre circostanze, la Serie D vi sta aspettando, tocca soltanto a voi agguantarla e domenica dovete vincere assolutamente col Cus Palermo perché dopo la sconfitta imprevista di Paceco col Dattilo è chiaro che l'unico risultato è quello di conquistare i tre punti. Sì, infatti domenica sarà l'ultima gara del campionato, i tre punti ci distaccano dalla Serie D e sicuramente faremo di tutto per raggiungerla perché non possiamo farci sfuggire questo obiettivo che è ormai così vicino dopo un anno lungo di sacrifici, un anno intenso, ricco di emozioni, quindi ormai ci siamo e ci stiamo provando al meglio per affrontare la gara nel migliore dei modi. L'importante è che non ci sia nello spogliatoio scoramento dopo la sconfitta di Paceco. No, no, nessuno scoramento perché noi siamo un gruppo forte, una sconfitta, non perdevamoci da, se non sbaglio, da ottobre, comunque da parecchio tempo, un gruppo dimostra la sua forza nei momenti di difficoltà. Ora è l'ultima partita, è il momento che conta e quindi se siamo veramente un grande gruppo lo dimostreremo domenica come sono sicuro che faremo. E caccia il biglietto, già il tifoso Biancazzurro è alla ricerca del tagliando, questa dimostrazione del fatto che il gelese, il tifoso gelese tiene alla Serie D come dal resto lo tiene la squadra. Beh sì, sicuramente in città c'è parecchio entusiasmo, siamo stati bravi a riportare un po' di entusiasmo in città, ho visto sui social che comunque si sta fermentando tutta la città per acquistare il biglietto con vari video. C'è molto entusiasmo e speriamo che a fine partita possiamo festeggiare tutti domenica. E poi la partita domenica prossima è la partita da dentro fuori, nel senso che il Gela ambisce al salto di categoria, il curso Palermo non deve perdere altrimenti ne trocede. Sì, sicuramente andremo a incontrare un avversario con ancora delle motivazioni perché appunto se vince può sperare ancora di salvarsi facendo i play-out. Però sicuramente noi abbiamo anche la nostra dirragione che è quella di vincere il campionato, quindi a pari di ambizioni la nostra supera di gran lunga, quindi faremo di tutto per portarci il risultato, i tre punti a casa. È prevista per domani alle 19 l'inaugurazione della sede della scuderia Valvole Pistoni Gela diretta da Davide Millauro. Si tratta di un'associazione di amatori e cultori di auto d'epoca. L'iniziativa si terrà in via Portuense, il numero 17, nel quartiere Fondo Iozza. Gela Scacchi al top ai campionati regionali, vinte numerose medaglie. Vediamo. Ingetta di medaglie per l'associazione sportiva di lettantistica Gela Scacchi al 29esimo campionato regionale siciliano che si è svolto a Marsala. Ancora una prestazione coi fiocchi per la squadra giolese. In gara più di 200 giovani e bambini provenienti da ogni parte dell'isola. Chiara Morello si è laureata campionessa regionale under 14. La vittoria la dedico a... non la dedico a una particolare persona, la dedico a tutte le persone che mi sostengono giorno dopo giorno. Sono riuscita a vincere impegnandomi al massimo, studiando le varie teorie degli scacchi. Terzo posto assoluto nella categoria under 10 femminile per Arianna Marazzotta. Ultimamente alle regionali soltanto terzo posto, però sono arrivata seconda e prima. Tutti i bambini potrebbero giocare a scacchi, anche se sono molto piccoli. Però ci vuole molta pazienza, eh? Abbastanza. La Gela Scacchi a Marsala ha rappresentato l'intera provincia di Caltanissetta. È un gioco molto bello, dove si possono vincere premi giocando ai tornei. Però ultimamente tu non hai vinto. No, però mi sono divertito comunque giocare. Quando noi giochiamo, ovviamente noi siamo molto entusiasti. Voglio citare le frasi di un grande campione, un grande campione del mondo. E sta, dice il gioco degli scacchi è il gioco più violente del mondo. Vuole dire che uno si immedesima quando gioca a scacchi. Cioè, quando noi vingiamo siamo felici, mentre quando perdiamo noi siamo tristi. Perché l'obiettivo del gioco degli scacchi è annientare l'avversario, ma nel massimo è la sportività e la correttezza. Proseguono gli appuntamenti inseriti nella 82esima stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Musicale Giuseppe Navarra di Gela. Domenica 17 aprile alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto pianistico a quattro mani con Maria Provenzano e Laura Blandino. Infine c'è la pagina dello spettacolo. Oggi alle 18 e alle 21 nell'ambito della stagione teatrale sarà portata in scena lo spettacolo. Attenti a quei due, la regia è di Luigi Licata. L'evento si terrà presso il Cineteatro di Macchitella. Bene, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito internet all'indirizzo web www.tg10.it Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Arrivederci! Grazie a tutti!